Eh sì, è arrivato il caldo e siamo a fine maggio, già non lo sopporto più, già voglio l'inverno, rivolgo il freddo, le coperte, la stufina, le cose calde da mangiare, e invece ci becchiamo il caldo anche perché è il 20 maggio e devono uscire le arca uscite. Cosa sono? Un format dove in questi video vi informo sei volte al mese sulle uscite al cinema e su piattaforma con video diversi, che se siete iscritti mi raccomando iscrivete ai punti 2400 iscritti, fatelo perché rimanete aggiornati su tutte le uscite, come detto. Le arca news il lunedì dove vi informo degli eventi più importanti della settimana con il box office, il martedì in realtà, che c'è Cina Frank e anche altre uscite. Questa domenica portiamo registro, poi vediamo quando fallo uscire, un'analisi scena per scena del primo, ovviamente delle scimmie del 68, quindi un sacco di bella roba da vedere. Quindi rimanete iscritti, abbonatevi se vi va, dividete, mettete like, insomma seguitemi, va bene? Come vi dico sempre, come funziona l'arca uscita? Vi dico, Netflix, Prime Video, Apple e Disney+. Queste piattaforme cosa esce in questo periodo, dal 21, essenzialmente al 30, fine mese, ok? Cominciamo subito con Netflix, che il 27 maggio ci propone dei titoli, ovviamente, andiamo a vederli insieme. Garuden e Jurassic World, teoria del caos, il 23, vediamo. Garuden, ovviamente di origine giapponese, è un anime, non ho capito se è una serie o un film, ma comunque mi interessa. Dice, un ricatto costinge giuso, che è questo tale, a partecipare a un torneo illegale affrontando lottatori di arti marziali in incontri mortali, mentre fugge da un crimine passato. Mi interessa tantissimo. Tratto da un libro, crudo, cupo, mi dice Netflix, e ho già il pro memoria attivato per il 23. Spero sia breve, così lo vedrò subito. Poi, questo lo conosco, Jurassic World, teoria del caos, che è l'ultimo capitoletto, se vogliamo, della nuova serie di Jurassic World animata con questi bambini, di cui ho parlato perché vedi le prime due stagioni, molto brevi e simpatiche, sono su Netflix, e ho parlato sul canale. Magari ve le metto. L'ultimissima stagione non l'ho vista perché, nonostante i grandi pregi, si tende a ripetere. Ora, questa è l'ultima parte, teoria del caos, vediamo se ci danno altre informazioni, sarà una miniserie. Ma breve, dico. Episodio di 20 minuti, 5, 6 al massimo. Il gruppo del campo Cretaceo si riunisce per risolvere un mistero quando scopre un complotto globale che mette in pericolo i dinosauri e loro stessi. Perché questi bambini sono finiti, per sbaglio, in questo campo Cretaceo e devono scappare. E ovviamente ci sono i dinosauri di mezzo. E misteri. Funziona, funziona, ve lo consiglio. 24 maggio, abbiamo Atlas e My Only Girl. Atlas, attesissimo perché mi farò grosse risate, film con Jennifer Lopez, Simone Liu, due attori straordinari proprio, Sterling Brown, forse il migliore, dice Una brillante analista del contoterrorismo di Fida, profondamente della IA, ma dovrebbe essere la sua unica speranza quando una missione per cattuare un robu ribelle finisce male. Sento puzza di io robu, eh? Ma giusto così. Dove recita Jennifer Lopez è sempre un filmetto. Cos'era quello dell'anno scorso di cui ho parlato? Non mi ricordo più, ve lo metto qui in alto. Comunque, lei faceva Mother? Una cosa del genere. 25. Ah, 25. Quasi orfano. Ve lo metto qua, che è un film uscito dal cinema l'anno scorso con Scamarcione, commedia italiana quasi devenziale, perché c'è questo grande artista di arredamento, insomma, prende una sedia e la rende arte pura, per cui uno non si ci può sedere, cose del genere, adesso non so il termine esatto, che perde la memoria e torna alle sue origini calabrese, mi pare, per cui vive, rivive la sua infanzia a casa. Quindi sud contro nord, bello, però intrigante. Ah, e My Onigirl? Che fine ha fatto? Andiamo indietro, raga! Sono fuso completamente. Sembra che sono di fretta, ma sono fuso completamente il caldo. My Onigirl, desideroso di piacere andare d'accordo con tutti, è un studente al primo anno del liceo, Iraghi, vive nella prefettura giapponese di Yamagata. È incapace di dire no quando qualcuno gli chiede qualcosa. Ovviamente qua incontrerà Tsumugi, una ragazza, Oni, giunta nel mondo umano per cercare la madre. Quindi una sorta di alieno, insomma. Che fa tutto quello che vuole ed è l'esatto controllo di Iraghi. Wow. Anche, mi pare, animato. Sì. E quindi, non lo so. Vi piacciono a questo tipo di cose? Vabbè. Dicevo, torniamo a Eric. Abbiamo che, ambientata a New York negli anni Ottanta, Eric è una nuova emozionante serie thriller di Abby Morgan. Vabbè, che seguo un padre alla disperata ricerca del figlio. Di nove anni, scomparso una mattina mentre va a scuola. Vincent, non a casa. Uno, cioè, era il cane, no, di Walt. Vincent, uno dei più famosi burattinai di New York e ideatore del popolare programma. Vabbè, eccetera, eccetera. Vincent si aggrappa a questo incontro sovrannaturale che gli dice che il suo figlio tornerà a casa. Quindi è da vedere. Assolutamente per Benedict Cumberbatch. 31. Una parte di te. O e parto più in lingua originale. E storia d'amore. E parto più una storia di vita e di morte sull'esperienza di aver 17 anni e sentirsi il cuore esplodere nel pezzo. La sorella maggiore di Agnes ha tutto ciò che lei vorrebbe. Ma un giorno un terribile evento sconvolge il mondo di Agnes. Obbligandola a reinventarsi. Eh, non so, queste storie sturgenti. A vero, belle. Consegliato. No, non è vero. Vi annuncio che per Apple TV Plus non c'è niente. Tanno una serie alla quinta stagione che non si è visto nessuno. Quindi c'è Netflix. No, c'è Prime Video e Disney Class. Iniziamo con Prime Video, che ha solo due titoli. Sono film che sono già usciti, di cui ho parlato sul canale. E che vengono riproposti per chi se le fosse perse al cinema. Wow, era meglio se ve li perdevate. Primo è 25 maggio e i soliti idiotici e il ritorno. Vi metto qua le recensioni. Uno dei film più brutti dell'anno. Davvero, non fa ridere, fuori tempo massimo. E il duo comico non funziona. Quindi c'è poco da fare. Mandelli e l'altro. Se vi piace l'idea, volete perdere un po' di tempo, è il film che fa per voi, forse no. Poi il 30 maggio imperdibile. C'è un film che sarebbe Enea di Piesa Castellit. Cavolavoro, uno dei film più brutti dell'anno. Ci ha dedicato due video per quanto è umiliante. Un film umiliante per chi l'ha fatto e per chi l'ha visto. Se siete curiosi proprio per questo, andate a vederlo. Anzi, ve lo consiglio. Poi guardate anche le mie recensioni per capire se siete d'accordo o meno. Ve ne metto una di queste due. Se no, altrimenti, basta che siate iscritti e cercate. Sulla barra mettete Arcadin Hammer, su YouTube Arcadin Hammer e Enea. Escono due video. Va bene? Non voglio dire altro. Però concludiamo con Disney Plus, Disney Plus, che ci propone ben due prodotti seriali. Diciamo uno seriale e uno che è una sorta di documentario. Il primo è... Il 23 maggio abbiamo The Kardashians stagioni 5. Per chi volesse approfondire, vi posso dire che il clan familiare guidato da Chris, Kourtney, Kim, Khloe Kardashian, Ken, ma chi è sta gente? E Kyle torna sotto i riflettori per raccontare le verità scottanti su ciascuno di questi. Dagli affari imprenditoriali alle istituzioni private. Però, io non me la perderei, fossi in voi, eh? E si chiude con il 24 maggio con Batch Boys, che in realtà, per chi è amante del gruppo musicale, può essere interessante. Il film documentario narra la storia della band, partita dal basso e arrivata alle vette del pop. Ma che strano. Non succede mai. L'opera comprende immagini e interviste filmate in gran parte nelle. Fate voi, fate voi. Va bene, io vi saluto ragazzi, devo scappare. Va bene? Un saluto. Iscrivetevi. Mi raccomando, supportatemi come potete. E ci becchiamo. Ciao.